Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi è lunedì, questo è il primo vlog di questa settimana appena iniziata e siccome io nel weekend non seguo tantissimo quello che accade su YouTube Italia, stamattina mi sono fatta un po' un giro dei canali facendo zapping da canale a canale, da live in live, anche perché oggettivamente determinate live durano talmente tanto, tipo 3, 4, 15 ore, che è difficile seguire tutto. Allora si va avanti a spizzichi e bocconi, però c'è il rischio di perdersi un po' il filologico di quello che è in quel momento l'argomento che intercorre tra i partecipanti alla live. Dio come parlo bene oggi. Andiamo avanti. Allora, siccome determinate live non le ho seguite per intero ed è difficile seguire tutto, però un'idea generale me la sono fatta e devo essere onesta. Il primo pensiero che mi è venuto ad ascoltare determinate video o live dovrebbe tornare di moda la vergogna. Penoso inoltre assistere a questo arrampicarsi sugli specchi per frasi dette, concetti espressi, cioè voglio dire siete persone mature, abbiate la responsabilità di quello che dite, di quello che affermate, senza andare poi comunque una volta messi con le spalle al muro a ritrattare o cercare di provare a ritrarsi dopo aver fatto talune affermazioni, soprattutto in tono negativo, poi quando vengono messi un po' di fronte a quelle che sono le loro responsabilità puntualmente si ritraggono, magari dicendo che non intendevano quello, l'altro non ha capito, cioè però l'italiano è quello, cioè una volta che si esprime un concetto, un'affermazione, l'italiano è quello, non è che si può tanto cambiare il senso delle parole espresse, però molti non accettano il fatto che comunque le parole dette hanno un peso, poi comunque quando si arriva poi a una conclusione del discorso, può intervenire sempre qualcuno a dire tu hai detto, tu hai fatto, quindi lì poi si riconosce la persona matura, la persona vera, da qua a qua a qua, definiamolo in questo modo, perché la persona matura, la persona seria, quando le viene imputata un'affermazione fatta, non è che sta lì a ritrarsi e cercare di raggirare un po' l'ostacolo dicendo che magari non l'ha detto con quel proposito, la persona matura dice sì, io ho detto questo, confermo di aver detto questo, questo è il mio pensiero, ora ti piaccia o non ti piaccia, hai modo di controbattere, però comunque io non cambio la mia opinione, invece poi c'è la versione qua a qua a qua delle persone che sono quelle che una volta messe con le spalle al muro iniziano a ritrarsi, a ritrattare le cose dette, a dare un significato diverso alle parole, cioè voglia di siete penosi, patetici, che possiamo aggiungere più, non ci sono aggettivi idonei a descrivere queste persone che comunque cercano sempre di stare con un piede di qua all'altro di là per non perdere delle posizioni agiate, tra virgolette, a loro dire, a loro pensare, però comunque stanno a fare una valanga di figure di merda che la metà basterebbe. Io come tutti faccio da spettatore, ascolto, valuto e ringrazio Dio di essere una persona totalmente diversa da quelle che sto vedendo esporsi ultimamente su YouTube Italia. Boh, non lo so, a volte mi viene da pensare che forse è l'atteggiamento anche mio un po' troppo esplicito, nel senso che a me se qualcuno mi chiede, sia pubblicamente che in privato, cosa ne penso di una determinata persona, cosa penso di una determinata situazione, cioè io non è che sto lì a farmi paranoie, sto in privato, sto in pubblico, questo lo posso dire, questo non lo posso dire, a me è quello che mi passa per la mente, per quella che è stata la mia esperienza, per quella che è stata la mia percezione di quella persona, di quella situazione. Ora, a seconda dei casi, cioè io non è che mi sto a fare tanti problemi pubblico e privato, quello che penso dico, ovviamente sempre cercando di essere una persona rispettosa ed educata, anche perché comunque per me su YouTube sono tutti estrani, non è che sono miei parenti o miei amici che conosco nella vita reale, però per quella che è la percezione di quella persona mi esprimo, non è che mi sto a fare paranoie del tipo, oddio, adesso ho detto di quella persona che non mi piace, adesso mi fanno gli screen, adesso mi fanno gli audio, ma chi se ne frega se io penso quello di una persona, perché avrò avuto dei privati, dei precedenti, no, con una determinata persona e posso esprimermi, o magari posso dire, per sentito dire, mi hanno detto che quella persona è così, però io non la conosco. Ora poi, facendo una rapida valutazione, credo che il modo migliore di interagire con gli altri sia di esprimere sempre quella che è la nostra opinione, senza la remora di poi incorrere nel fatto che possa arrivare qualcuno e imputarci d'aver detto, d'aver fatto, eccetera, eccetera. La cosa, no. Relativamente alle rotture di coglioni, io potrei scrivere non un libro, ma un'intera collana di libri, perché, ahimene, la mia vita ne ho avute tante, però sono sempre riuscita a far fronte, man mano che arrivavano si rompi i coglioni di turno, a metterli a loro posto, anche perché comunque non è che serva tanto, perché valutando la situazione, una persona che si attacca, come detto in precedenza, tipo Cozza allo scoglio, già è una persona problematica di suo, cioè non è che ci vuole tanto a capire un genio. Però una volta delineate le posizioni, cioè credo che ci sia poco, ben poco da fare, se non che ognuno rispettare il proprio ruolo, cioè il defilante si defila e rompe i coglioni, rimane e rompe i coglioni, magari cambia il personaggio da perseguitare, diciamo così, mettiamola su una vena ironica, oggi va così, siamo inizio settimana, prendiamola in un modo alquanto leggero, anche perché comunque la settimana è lunga, e se iniziamo a fare i pesantoni dal lunedì, non lo so se sopravviviamo fino al sabato. Detto questo, cari ragazzi, care ragazze, io adesso, se fatta una certa, mi è venuta anche un po' fame, e non sapendo ancora bene cosa voglio mangiare, quindi vi saluto, vado a cercare qualcosa da mangiare, sempre grazie per l'attenzione, ci risentiamo al prossimo video, vlog, quello che cavolo è. Ciao a tutti di Agossi. Ciao a tutti.